Stiamo spendendo i dati nazionali e ci siamo comunque difesi, vedremo, questa è un'analisi del voto, è presto per farla, però non c'è, l'analisi è chiara, i partiti e la coalizione di centro-sinistra ha perso le elezioni, punto. Certo, si è sentito con Tancredi? Sì, siamo sentiti, questa mattina ancora no, Paolo è a Roma, ci sentiremo a breve per fare un'analisi del voto, quello che vedremo poi i voti in città, nei vari comuni dove si vota, cercare di capire che tipo di attività fare, prima di tutto perché abbiamo a breve alcune elezioni amministrative molto importanti e poi anche le elezioni regionali, quindi è chiaro che la politica non finisce con una sconfitta, ne abbiamo avute tante di sconfitte e anche di grandi successi, quindi voglio dire, in politica esistono i momenti di difficoltà, esistono i momenti di… non ci si deve abbattere quando si perde, non si deve gioire troppo quando si vince, perché comunque la politica è questa, basta vedere cosa è successo in quattro anni al Partito Democratico. Dall'idea che si è fatto lei, anche a livello nazionale, si riuscirà ad avere un governo solido? Dall'idea che si riuscirà a fare la Lega o il centrodestra? Torno a ripetere, che vedendo i risultati così, poi diciamo ancora si possono modificare, poi esistono dei resti, dei calcoli strani, delle cubre, non abbiamo un parlamentare eletto della mano. E questa forse è la cosa che dispiace maggiormente. Sì. Però, fin quando non cambierà la parola legge elettorale, Dignazio, ci ritroveremo sempre un po' in queste situazioni, quello è il problema. Io credo che non sia poi, perché voglio dire, non è così, la gente ha votato, per esempio il Presidente Quagliariello non ha votato un candidato terramano, quindi è difficile imputarlo alla legge. Perché però voleva votare Forza Italia, voleva votare Forza Italia e c'era Quagliariello. Forza Italia ha umiliato la provincia di Teramo, non candidando in pensi da 90, questo è un dato di fatto, ci ha omigliato e la gente l'ha proviato lo stesso, quindi non so, io ho difficoltà a capirla, questi meccanismi elettorali, perché è chiaro che, insomma, delle due l'una, noi siamo qui poi a affrontare i problemi senza avere un riscontro poi con chi vive il territorio.